Allora, abbiamo fatto la torta fatta in casa, la torta fatta in casa con tre uova, ho buttato dentro tre uova, metà farina, ho fatto una roba un po' soft per vedere un pochino di risparmio, tre uova, farina, scorza di limone, latte, ho messo dentro il latte, una roba così, adesso pensiamo come li diamo, va bene? Ok, quindi c'è un'impastatrice, questa è un'impastatrice d'acciaio, sotto c'è una lama d'acciaio grossa così, che potrebbe muoversi, potrebbe muoversi e fare faville, e la mettiamo, c'è il tappo di plastica che voglio mettere qua, qui c'è il tappo di plastica, e quindi facciamo il B&B con i frullatori d'acciaio, facciamo B&B, ok? Frullatore di plastica, torta d'acciaio, aspetta, no, allora, quattro uova, un mezzo litro di latte, farina, lievito madre, tutto originario dalla terra d'Irmania, terra d'Irmania, terra d'Irmania.